Buonasera a tutti e ben ritrovati a Diarte, seconda giornata insieme ad Alfonso e Nicola Vaccari, gemelli che ci fanno compagnia da ieri, che ci tranno compagnia per tutta la settimana, quindi grazie per essere di nuovo qua con voi, è un onore, fantastico, anche perché oggi è una puntata particolare perché in realtà la regina delle regine entra in scena, quindi noi sappiamo, per chi segue e ovviamente conosce i gemelli Vaccari, sappiamo che la donna è protagonista della vostra pittura, una delle protagoniste, ma direi proprio la regina, in tutte le sue sfaccettature, quindi anche in tutti i suoi strati psicologici e non solo, ma anche fisici, le donne sono uno scrigno di desiderio, passione, di potenziale, è stato esplorato o non esplorato, quindi è molto interessante in realtà il percorso proprio di ricerca all'interno di un essere così, quasi, non so, quasi aleatorio, quasi unico, unico nel suo genere. Allora Nicola, perché la donna? Prima di tutto la risposta più semplice che mi viene da dare è la bellezza, il fattore estetico, quindi noi artisti che ci occupiamo, siamo degli estetici, ci occupiamo di bellezza, il nostro sguardo cade per forza, al di là che siamo maschio-femmine noi artisti, cade sulla bellezza, quindi sulla donna. La donna esprime naturalmente quella grazia, quella bellezza che in tutta la storia dell'arte poi abbiamo visto tradotta dal 200-300, soprattutto il Rinascimento, fino anche all'Art Liberty, dove poi a Forlì c'è anche una gran bella mostra dedicata a questo periodo storico e artistico. Quindi la bellezza naturalmente è donna e quindi perché no, perché non rappresentarla in maniera totale, quindi nelle sue varie sfaccettature di grazia, di erotismo, di sensualità, anche di tenerezza, come noi abbiamo anche in passato fatto dipinto delle maternità. Quindi la donna ingloba un universo incredibile di motivazioni, sensazioni, di percezioni, cioè la donna è la creazione. Quindi tutto qua. Alfonso, sempre delle donne belle, giunoniche, cioè che incarnano proprio il potenziale classico della fattezza femminile oppure... Ma noi non ci rifacciamo mai a quella bellezza patinata da copertina, dei mass media che vogliono relegare la donna all'interno di un... diciamo di un... di quello che è la volontà maschilista di circoscriverla solo per il prodotto di commercio. Quindi la donna che viene vista sempre sull'aspetto del sesso, quindi non dell'erotismo, che è ben altra cosa. Noi guardiamo la donna e diciamo per quello che rappresenta ai nostri occhi il potenziale di seduzione, che può benissimo non corrispondere ai canoni delle copertine, dei mass media, di quello che sono le pubblicità o quello che sono i talk show, dove queste bellissime ragazze devono avere per forza un certo tipo di corpo, di siluette, che secondo me fa parte poi di un copione scritto. Certo. Non è quella la bellezza. La bellezza sta in mezzo, fra le righe, di quello che può essere il superfluo, il superficiale, il faticiente, l'adulterato, quello che è tutto ciò che rappresenta l'esagerazione dal punto di vista sempre voluto da chi poi non sa capire quello che è l'intimo della bellezza. E questo si può fare un riferimento al film di Sorrentino, La grande bellezza. Che ha appena vinto l'Oscar. Che ha appena vinto l'Oscar. E noi abbiamo visto come l'intellettuale che era immerso in un mondo faticente, in un mondo costruito, dove c'era una borghesia che ti assorbiva in un giro di sostanze effimere, dove non c'era più niente. Lui alla fine capisce che la bellezza, fra tante cose effimere, vi erano schegge di bellezza. E questa bellezza è un memoriale del suo ricordo. Quando vide per la prima volta la ragazza che dimostra il seno nella purezza di una espansività, di sensualità, di erotismo che è innocente di questa ragazzina, lui ritorna a questo memoriale. Quindi la ricerca della bellezza perduta, sempre citando Pruste, e attraverso questa memoria, questo memoriale, questo ricordo, è la bellezza ritrovata. Ecco, noi guardiamo quello. Cioè quella bellezza pura, primigenia, di sostanza assolutamente angelicata, quindi appunto dove c'è la pulizia da tutto ciò che sono gli orpelli che lo avvolgono. Invece questa sostanza pura e bella, nitida, di una bellezza che è la naturalezza delle donne. Assolutamente. Nicola, questo forse ha un senso, quindi la scelta di soggetti giovani, ha questo tipo di senso, cioè la naturalezza quasi non cercata, cioè la sensualità che nasce spontanea, perché le donne attraversano un percorso in cui iniziano a sentirsi seduttive ma non ne hanno coscienza. Beh, è l'età dell'innocenza di cui il grande fotografo David Hamilton si è occupato e ne ha fatto quasi una Bibbia, fra virgolette, profana. Cioè l'età dell'innocenza, la fanciulla, la lolita, che hanno fatto sempre parte come icone questa tipologia di donna del teatro, del cinema, della letteratura e quindi della pittura. Soprattutto appunto ricordavo anche nella puntata scorsa il grande Balthus come pittore. È anche casuale a volte perché dipende anche dal tipo di modella che vai a cercare. Naturalmente noi ci avvaliamo sempre di modelle maggiorenni che però magari dimostrano anche meno oppure dimostrano quell'età dai 20 ai 25, 30 anni in su. O anche ce ne sono delle giovanissime tipo 19, 20 anni che comunque insomma sono un'icona particolare per poter creare quel mistero assoluto di una giovinezza come tu dicevi che parte e che si prepara la vita che è appena partita alla vita, che si è appena facciata alla vita e che attende il suo romanzo, il suo divenire. Assolutamente, perché effettivamente... E quello è il grande fascino. Esatto. Come, scusa se ti interrompo, come il grande fascino può averla anche... La donna molto protratta nell'età avanti, tipo non so, la cinquantenne, la sessantenne, la settantenne di cui Leonardo da Vinci stesso, sia nell'uomo che nella donna, andava a cercare poi questi volti dove apparentemente la bellezza era sfiorita, perché prendeva posto un altro tipo di bellezza. Che era quella interiore. Quella interiore di una bellezza vissuta, quindi insomma i canoni della bellezza sono tanti. L'importante è saperli riconoscere e mai, mai dare invece adito a una bellezza formata dalla massa come un cliché. La bellezza sta altrove. Non è quella la bellezza che ci siamo noi. Non è quella che sta altrove. Questo gli artisti lo sanno, che siano poeti, che siano scrittori, che siano pittori, fotografi o qualsiasi altro tipo di attività creativa tu faccia. Ne sono assolutamente convinta, ti sposo la causa appieno. Vediamole queste opere. Noi abbiamo degli esempi di come appunto la bellezza può avere svariate spazi. Allora, questa è un'opera intitolata L'Annuncio a Maria. È un'opera di carattere religioso, come potete vedere questa non è una Madonna classica dove il viso appunto appartiene a un'iconografia antica o classica, ma è una ragazzina che ha fatto, si è prestata da modella, che l'abbiamo trovata, noi frequentando la chiesa del Carmine c'era questa ragazzina, l'abbiamo avvicinata, abbiamo chiesto a sua madre se accompagnata dalla mamma potesse essere interessata a venire a posare per noi vestita da Madonna perché volevamo fare un'annunciazione. E quindi è la Maria che si incarna nelle ragazze attuali perché la bellezza è fatta ovviamente di seduzione estetica del corpo, ma c'è anche un'altra seduzione che è quella del candore e della misticità, della fede cattolica, della fede in Dio e della grazia. Adesso hanno cambiato l'immagine, comunque insomma abbiamo voluto fare un'annunciazione contemporanea utilizzando una bellezza, una fanciulla che la Madonna aveva quei 12-13 anni e abbiamo scelto proprio una modella ma però dei giorni attuali. È un po' quello che faceva Caravaggio, lui sceglieva modelli del suo tempo. Nicola. Dimmi, c'è un'altra immagine da commentare probabilmente. Sì, c'è l'immagine sacra che è già sta qua. La religiosa, tratto da un film che ha partecipato al Festival di Berlino del Cinema. Se non sbaglio si chiama Nicola, il regista, però non vorrei sbagliarmi se ben ricordo. E questo è un fotogramma, è stato tratto questo quadro da un fotogramma di questo grande regista che ha partecipato al Festival di Berlino del Cinema. Il film è La religie, non so, tu sei... La religese. Ecco, brava, io ho studiato inglese e francese, pur avendo un'ottima pronuncia, anche se noi abbiamo la rimocia, non ci azzacchiamo proprio. Allora, il quadro si rifà questo fotogramma che ci ha molto affascinato, ci ha molto colpito. Fate vedere il quadro, non me perché forse è più bello. Come vedete si vede appunto questa religiosa, questa monaca, questa monaca di clausura che è intenta a leggere probabilmente una lettera, datagli forse dal suo confidente spirituale, oppure potrebbe essere anche un foglio dove c'è una preghiera e lei sta recitando un aggiaculatore, una preghiera nel suo silenzio claustrale. Niente, qui c'è la grazia, si ricorda anche un po' la pittura di Vermeer, molto olandese come quadro. Molto olandese, quindi la pulizia, il silenzio, il rigore, la compostezza. La luce che gioca un ruolo spirituale. La luce bravo che gioca un ruolo spirituale. Questo è un grande quadro che a mio avviso porterà anche avanti forse un discorso che abbiamo interrotto ma che in futuro riprenderemo. Posso anche aggiungere questo quadro, è stato scelto da Vittorio Sgarbi, è stato selezionato per il premio Bonato Minella che si è tenuto a Torino. Ci sono 380 artisti candidati, 20 sono stati scelti da Vittorio Sgarbi, il quale ha ritenuto opportuno appunto che noi presentassimo quest'opera. che è in catalogo, nel catalogo della mostra del premio Bonato Minella, sezione figurativa, diciamo, Over 20, edizione 2014. Complimenti, questo inaugura un ciclo, potenziale. Potenziale sì, noi siamo molto più protrati verso le fanciulle, la seduzione per quanto riguarda la bellezza dell'esteriorità e dell'interiorità che amalgamano un'intensità di profondità espressiva nelle fanciulle, quindi che non include chiaramente nulla di mistico. però anche lì c'è il misticismo, io vedo la liturgia attraverso la contemplazione della bellezza, c'è sempre liturgia. Però c'è anche da dire anche una cosa. Secondo me sono anche molto sensuali alcune... Sì, ma ti sto guardando, mi hai letto nel pensiero... Non vorrei mai essere profana con la sfena. No, non è questo di essere profondità. Non sono sensuali, perché la sensualità non è soltanto l'erotismo, che è sessualità o una voglia di godimento. Assolutamente. Cioè, il voglierismo... Scusa, forse fammi finire. Sì, scusa, il voglierismo. La sensualità sta anche in un albero, per dire. Nella grazia, nella sinuosità, nella flessibilità, nella compostezza diventa sensuale perché a chiappa, diciamo così, c'è il doma sguardi, ti cattura, cattura il tuo sguardo, lo contempli con passione, con compostezza, quasi come un'idolatria della bellezza. Perché allora... Io ho sempre detto che la natura è sensuale, perché la natura è femmina. Decisamente. Già di per sé è un paesaggio, la grande natura, gli grandi spazi, gli alberi, le colline, le montagne, i laghi, l'acqua, insomma, tutto il creato è già sensuale. Però volevo anche dire che nelle nostre fanciulle è legittimabile anche da parte di chi osserva un certo voglierismo, questo qui non è da negare. Sì, no, lei diceva che sensuale è anche quel quadro dove non c'è erotismo, non c'è la lolita, non c'è la fanciulla, ma anche una monaca oppure un ritratto dove è molto più sacrale il discorso, la sensualità sta proprio in questa espressività di bellezza che va verso... si sterilizza, esatto, però il discorso è che per quanto mi riguarda da donna, ammetto un interesse molto più profondo verso un'altra femmina, ecco, permettetemi il termine, che maestosamente si cela o comunque maschera o che ha una sua allure particolare, magari sotto un bel vestito, eccetera, piuttosto che... Beh, certo. ...la sfrontatezza di mettere in mostra. La stessa cosa... Infatti non sono mai nude le nostre modelle. Chi è più interessante come personaggio, la monaca di Monzo o Lucia? Cioè c'è sempre questa dicotomia tra chi vuole o chi è apertamente quello che sembra e chi invece maschera un qualcosa. Secondo me in tante monache così ad occhio basso, con uno sguardo, c'è tanto di femmina, non nel senso sensuale, nel senso, ma di una consapevolezza che fa parte di ognuna di noi. Perché poi comunque la bellezza femminile incarna poi il discorso di Maria, un discorso mariano. Cioè Maria è la donna per eccellenza, è la bellezza per eccellenza, è la luce. E quindi anche nel discorso mariano c'è un universo infinito del discorso della bellezza. Grazie Nicola, grazie Alfonso. Come vedete abbiamo tantissime cose da dire, quindi non perdete il terzo appuntamento di domani. Noi ci rivediamo alla stessa ora, sempre su DTV con Alfonso e Nicola Vaccari. Un bacione e buona serata. Grazie, ciao.